Siamo qui stamattina nel centro storico di Napoli, questo meraviglioso centro storico in piazza Luigi Miraglia perché cominciamo a fare delle passeggiate nella città di Napoli come meet up amici di Beppe Grillo per cercare di capire come stanno le cose e cercheremo di capire un po' che cosa si può fare con i nostri occhi per cercare di migliorare un po' la situazione del centro storico. Abbiamo anche un questionario in cui abbiamo elencato una serie di domande per dare la parola ai cittadini e chiedere qual è la situazione della loro strada, del loro quartiere, che cosa bisognerebbe fare per migliorare la loro realtà, che cosa gli piace di più del posto dove abitano e che cosa farebbero loro, quale energia metterebbero a disposizione per migliorare la città. Siamo anche con Marie Muscarà che è la nostra portavoce alla regione. Raccogliamo le soluzioni stamattina. Raccogliamo le soluzioni stamattina. Raccogliamo le soluzioni stamattina. Che lei vorrebbe fosse ristrutturato per attività di carattere speciale? Sì, io ho avuto un infarto l'anno scorso, per arrivare all'oreca, da vigna secca, che l'ambulanza era una cosa... Pellegrini è pronto sopporso? Lo so, e là mi hanno portato. Questa era una cosa futura vera, se io morirei è l'ambulanza, l'ho detto tutto. Che cosa abbiamo in mano e poi pensiamo a come deve utilizzarla. Si potrebbe fare anche un'esposizione di immagini, per esempio di video, qui si incontrano le persone e quindi faremo dei momenti di confronto per il letto. Tenete presente che una cosa, questo addirittura l'ha fatto su YouTube, c'è un video che si chiama la resistenza dell'artigianato, la resistenza... Ed è visibile, per cui se vi va di guardarlo...